buongiorno a tutti siamo regione santu tettaru strada vicinale santu tettaru a pochi minuti da li punti a per visitare questo bellissimo ex mulino del settecento riconvertito completamente in abitazione affascinante quanto basta 6.000 metri di terreno rete idrica di città e oltretutto un fiumiciattolo rio gabbaru che attraverso la parte più distante dalla casa sul terreno che è veramente molto molto suggestiva buona visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti